Lo spettacolo è nato per raccontare l'amicizia al femminile, le sue regole e i suoi giochi di potere ma anche i suoi sorrisi che ci regala l'amicizia intima tra donne perché ho ragionato sul fatto di quanto fosse differente l'amicizia maschile rispetto a quella femminile l'amicizia maschile è molto più diretta, gli sms sono sempre molto organizzativi, sono sempre molto sintetici sono molto basilari sì, esatto, molto più semplici, lineari sappiamo in grado di fare troppe cose insieme, quindi una fatta bene, punto ma secondo me non c'è un criterio di giudizio, non è un giudizio di valore gli uomini fanno così e noi donne facciamo in quest'altra maniera è giusto o sbagliato? Non lo so, però questo è il dato di fatto i messaggini tra donne non puoi non mettere una faccina, un coricino o qualcosa che regali comunque un collegamento al mondo delle emozioni perché comunque siamo sempre molto più emotive il che vuol dire che siamo anche molto più cervellotiche complicate, complesse però ti do una notizia, le emoticone sono apparse anche nel nostro mondo attenzione, ci sono delle evoluzioni ci stiamo evolvendo anche noi l'ok e lo smile anche in quel senso, però sono arrivate insomma, quindi quattro storie, anzi tre più una perché ci sei anche tu in qualche modo, giusto? io mi sono, allora diciamo che questo è un debutto alla regia e la più grande paura era stata quella di comportarmi come tutti i registi che nascono come attori e quindi di essere un po' frustrata a livello inconscio e quindi prendermela poi con le ragazze che stavano sul palco con le attrici perché fondamentalmente mi mancava qualcosa e allora i patti sono stati se ci dovesse essere bisogno di un ruolo extra femminile me lo prendo affinché non sia però sul palco perché essendo la prima regia non sono neanche in grado di gestirmi poi vista dal palco tutte le sere non la volevo questa cosa assolutamente mi è bastato tutto il resto del lavoro che detto così può essere anche bellissimo è andato tutto bene, non ci sono stati in tocca esatto, assolutamente, è finato tutto liscio l'idea era anche quella di fare uno spettacolo come l'abbiamo voluto definire, videoteatrale e quindi che desse la possibilità alle attrici di superare uno dei grandi luoghi comuni che io odio dal più profondo del mio cuore ossia se sei una brava attrice di teatro non è detto che tu sia una brava attrice anche sullo schermo, ok? quindi che ne so, se un casting ti viene a vedere a teatro in genere ti dice sì funzioni benissimo a teatro però sei troppo teatrale per una cosa in tv vabbè sono molto teatrale perché sono a teatro quindi il linguaggio, la gestualità deve essere quella teatrale e allora con le attrici ho detto io vorrei fare uno spettacolo dove voi avete la possibilità di esporre far vedere il vostro talento sia sul palco che nel registro più cinematografico e quindi la narrazione si sviluppa sia sul palco che con i video ma i video non sono a commento delle scene sono dei veri e propri angoli di vista che ci portano i personaggi fuori quindi diciamo abbiamo cercato di colmare l'ambiente claustrofobico del teatro che ti impedisce di andare da un'altra parte con i video quindi noi vediamo le attrici in altri punti anche fuori dal teatro, fuori dalla casa che entrano e quindi ci sono anche i raccordi e questa è stata la cosa che ieri è stata più apprezzata da tutti proprio perché dà molto più aria molto più spazio e soprattutto permette al pubblico di far capire che un attore è in grado se è bravo, come sono loro che sono bravissime di muoversi da un registro prettamente teatrale a un registro prettamente cinematografico allora vediamo un po' la storia tre donne avete utilizzato i colori per definire un po' anche caratterialmente queste tre donne si va dal bianco, si arriva al nero e poi c'è una delle protagoniste che sono tutti i colori messi insieme i colori dell'arcobaleno che poi sommati diventano bianco esattamente insomma Chiara invece è il nero io sono il nero che donna sei? allora io interpreto Flavia che rappresenta il nero che però non tensiona non è il nero perché comunque è cupa è semplicemente perché diciamo che non vede la vita in bianco e nero ma o l'uno o l'altro quindi è molto netta ed è ossessionata diciamo dalla verità comunque è una donna molto rigida è una donna tutta ad un pezzo quindi ha i suoi ragionamenti e da lì non si esce e diciamo che in questo caso non vorrei dire troppo però insomma in questo caso ci tiene ad approfondire certi discorsi con le sue amiche per avere delle risposte e lei le vuole queste risposte le servono ne ha bisogno per proprio la sua stabilità psicofisica diciamo senza fare riferimenti però insomma ecco è una donna tutta ad un pezzo una donna molto rigida è un medico molto in gamba che però vive in questo momento diciamo una crisi personale non voglio dire troppo mi sento proprio non mi va però insomma ecco vive una crisi che però è in relazione con le sue due migliori amiche ma anche soprattutto con se stessa quindi deve comincerà a capire certe cose diciamo di se stessa quindi questa rigidità verrà un attimo destabilizzata c'è il tema della sincerità della verità eppure le amicizie tra donne sono belle anche per il loro aspetto teatrale già nella vita nella vita di tutti i giorni insomma tu che amica sei insomma ecco allora io potrei essere un'unione di tutte e tre le attrici diciamo tutte e tre i personaggi però il discorso della verità è fondamentale nel senso che soprattutto nell'amicizia femminile diciamo che il mezzo che viene usato dalle donne è molto contorto però l'obiettivo è quello insomma è quello della verità della sincerità dell'ascolto poi che il mezzo sia un attimino come dire argicocolato quello è proprio fa parte di noi perché noi non siamo uno più uno fa due ma uno più uno fa forse se metto la radice quadrata di allora forse ecco però sì mi identifico assolutamente nel tipo di di rapporto che si crea tra donne insomma è proprio è vero allora ricordiamo sarà in scena fino al prossimo 9 di marzo al teatro al teatro lo spazio quel teatro che è un teatro particolare modulabile come l'avete ecco strutturato per raccogliere un po' questa messa in scena l'abbiamo spogliato di tutto avete svuotato il teatro lo spazio l'abbiamo svuotato ed è assolutamente uno spazio adesso non è neanche più un teatro no la cosa bella di questo spazio appunto è proprio il fatto di essere modulabile quindi non abbiamo un palco standard abbiamo un palco con una protuberanza esatto ok che avvolge di più gli spettatori le sedie però di più puoi anche scegliere come poterle mettere quindi non sono fissate per terra e quindi visto che abbiamo utilizzato lo spazio a 360 gradi anche le poltrone seguono questa linea quindi non sono fronte palco ma sono in diagonale in maniera riga avvolgente sono immersiva per il pubblico esattamente senti invece le riprese fuori Chiara come sono andate allora la squadra non ridere la squadra è stata meravigliosa ringraziamo assolutamente regista Vittoria Antonacci e al montaggio Valentina De Rocchi hanno fatto i miracoli veramente il risultato poi è veramente fantastico le luci sono meravigliose oggi è uscita una recensione che ha citato Truffo Martin Scorsese sono usciti fuori dei piccoli capolavori sul serio sono molto brevi chiaramente però sono fatti molto bene dal montaggio all'audio alla fotografia tutto cioè veramente non perché hanno fatti i miracoli considerando quello che avevamo a disposizione nel senso che hanno fatto oltre molto belli molto belli allora ricordiamo lo spettacolo fino al 9 di marzo al teatro lo spazio noi siamo in chiusura praticamente dobbiamo salutarci quindi ringraziamo Marzia Turchato e Chiara Ricci per essere con noi e ci vediamo al teatro ciao 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 ciao